ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo questo filmato arriva dalla colombia e mostra l'apparizione di uno spirito che si getta giù da un edificio per poi tornare indietro e scomparire il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento e non la chi e questa camera delante alto di milioni si è un demonio ui no non c'è la biblia che il che non ha niente parte qui nella terra però è che miro a porti come sostiene ui no 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 non mi impresione non è palo non è palo non è palo il video seguente è stato ripreso da una telecamera di sicurezza in una farmacia dal Messico il filmato mostra alcuni oggetti tra cui anche una sedia che vengono spostati da una forza invisibile il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il filmato il filmato il filmato il filmato una guardia durante il suo turno di lavoro in una fabbrica nota qualcosa di strano sul monitor sembra che qualcuno si sia introdotto dentro la fabbrica a quel punto chiama due suoi colleghi e li manda sul posto arrivati lì le due guardie non trovano nulla di strano a parte il loro collega che nota che sullo schermo quella persona è ancora lì il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento il video è che nel video ci sono aspettate la scusa l'adolazione l'adolazione a ver donde adelante caminen hacia tres pasos exactamente está a su espalda de ustedes ahí me exactamente ahí me está está haciendo su movimiento a vista al lado lo escucha ya le abrí aquí la malla al 37 lo veo que pase del otro lado lo acompaña al portón y lo veo que vaya nonostante i due vigilanti tentino di toccare quello che sembra essere un essere umano sembra che tutti i loro tentativi vadano a vuoto infatti come si può notare dalle immagini sembra che le loro braccia non riescano a toccarla una camera di sicurezza installata in un camion riprende il camionista mentre sta guidando quando all'improvviso una figura mostruosa appare proprio alle spalle del camionista e viene catturata dalla telecamera il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento che si può notare il video è un'esplodio che si può notare il video è un'esplodio che si può notare il video è un'esplodio Una camera di sicurezza installata sulla scalinata di un condominio riprende un attacco vero e proprio da parte di uno spirito ad un essere umano. Due ragazzi stanno scendendo le scale quando all'improvviso uno spirito aggredisce i due ragazzi terrorizzandoli e facendoli scappare a gambe elevate. Il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.